Nel primo pomeriggio di oggi, nell'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto, le autopsie del pregiudicato Cosimo Orlando, 43 anni, della sua compagna Carla Maria Fornari, 30 anni, e del figlio della donna, il piccolo Domenico, di appena due anni e mezzo, uccisi in un agguato lunedì scorso alla periferia di Palagiano. L'incarico affidato dal PM Remo Epifani della Procura della Repubblica di Taranto all'anatomo patologo Marcello Chironi. Esami autoptici utili a capire l'esatta dinamica della carneficina eseguita da killer che senza alcuno scrupolo hanno sparato all'impazzata all'indirizzo degli occupanti della matiz di colore rosso, guidata dalla donna dopo averla affiancata sulla strada Palagiano-Chiatona. Secondo gli ultimi particolari emersi, Orlando sarebbe stato l'ultimo a morire dopo che per 45 minuti gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo. La donna e il suo bambino sono invece morti sul colpo. All'interno della vettura, oltre alle tre vittime, anche gli altri due figli di Carla Maria Fornari avuti dalla precedente relazione con il boss Domenico Petruzzelli, ucciso anche lui in un agguato di mala. Ed ora l'attenzione dell'intera comunità di Palagiano non solo è rivolta proprio ai loro piccoli superstiti Davide e Mauro, di 6 e 7 anni, che hanno assistito in ermi all'inferno di proiettili e si sono finti morti per salvarsi, hanno raccontato. Ad assisterli ora si pensa a un'equip di psicologi e assistenti sociali che dovranno capire come aiutarli nel migliore dei modi. Intanto il sindaco Antonio Tarasco ha chiesto aiuto a prefetto e questore per tenere sotto controllo una situazione che potrebbe diventare pericolosa. E intanto domani in prefettura, a Taranto, riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che sarà preseduta dal ministro dell'interno Angelino Alfano, che ha già inviato sul territorio 60 uomini tra poliziotti e carabinieri. Obiettivo? Una risposta immediata e forte a mandanti ed esecutori dell'efferato triplice delitto.